Per quanto ci riguarda, pensiamo che la frontiera dell'animazione 3D sia quella di coniugare l'utilizzo di più software e avvicinarci il più possibile a quella che è la realtà concreta, quindi il 3D diventerà coniugare realtà e realtà virtuale. Sicuramente la nuova frontiera sono i nuovi software di rendering real-time, che permettono delle risoluzioni assolutamente in linea con quella che è una ripresa video tradizionale. Noi siamo gli artigiani della computer grafica, ma speriamo che ci sia un margine assoluto di miglioramento e di implementazione, sia tecnica che artistica. Innovazione e tecnologia